Il Consiglio Comunale si è discusso anche di temi legati al lavoro, di recluiti in deghe e della situazione delle assunzioni e lei nel corso di un'interrogazione ha parlato di un leggero miglioramento della situazione occupazionale a Monfalcone anche se dall'altro lato invece non c'era una... insomma, non erano contenti. Qual è la situazione occupazionale adesso e parliamo anche di appalti e superappalti? Ma allora, intanto è ovvio che noi ci occupiamo moltissimo di lavoro perché per vent'anni non hanno saputo muoversi mai su questo e sicuramente l'obiettivo è duplice. Da un certo punto di vista noi lavoriamo moltissimo per riuscire a creare le condizioni in fincantieri affinché ci sia la possibilità per tutti di entrare e di lavorare come è corretto che sia quando un'azienda ha necessità e fa bisogni per la produzione come quelli di fincantieri e su questo, assieme all'assessore Garitani, alla Regione e anche con il supporto del Governo ci stiamo molto muovendo. Te l'hai detto che c'è stata anche una riduzione degli appalti e superappalti fincantieri. Sì, infatti ecco, questa è una notizia molto importante perché uno degli obiettivi che abbiamo, l'obiettivo credo che ha la città in realtà è quello di procedere speditamente verso la riduzione dei subappalti che tanto gravissimo problema hanno creato sia per i lavoratori che si sono visti per molti anni trattati con stipendi e diritti assolutamente ridotti ma anche per la città che io ritengo per molti anni è stata trattata come lo spogliatoio di un'azienda e la riduzione del subappalto è una priorità. Con l'ingegnere Olivari questa mattina, ad esempio, abbiamo avuto un incontro dei tanti che abbiamo senza fare moltissima pubblicità ma si lavora quotidianamente su questi temi e tutta la parte della coibentazione che era totalmente in subappalto grazie a una ristrutturazione del sistema produttivo su questo ormai è organizzata senza l'utilizzo del subappalto. Io dico che è un grande risultato. Non sono circa i posti? Come un grande risultato il fatto che in regione al tavolo con l'assessore Rosolene l'altro giorno al tavolo quello del monitoraggio del protocollo quindi anche con le parti sociali e con Confindustria sia emerso in maniera inequivocabile che dal 4 ottobre, data dalla quale siamo partiti con i Recruity Day il numero delle assunzioni sia davvero molto cresciuto. In particolare da ottobre ad aprile, alla fine di aprile per arrivare adesso a maggio, sono stati più di 1870 le assunzioni avvenute. Di queste, grazie ai recruity con una presenza di 473 persone, di queste 432 sono state assunte. Quindi direi che questo grande lavoro che stiamo facendo è un lavoro di cui non abbiamo competenza di legge perché il lavoro non è una competenza del comune assolutamente come non è l'interlocuzione difficile che facciamo con Fincantieri tant'è vero che prima non solo non è stata fatta ma addirittura la partita non era neanche stata pensata però questi risultati premiano le sinergie con la Regione, con il Governo, con le parti sociali, con Confindustria. Abbiamo comunque, siccome non siamo ancora molto soddisfatti di come è stato applicato in particolare da Confindustria il protocollo, quello della Eton, mi riferisco a quella parte lì, ho chiesto sul suggerimento del tavolo all'amministratore delegato di Fincantieri ma nella sua veste di presidente di Confindustria di partecipare al prossimo tavolo perché noi riteniamo prioritario che i lavoratori della Eton e l'applicazione completa però del protocollo che prevede l'utilizzo anche del 5% della base imponibile del fabbisogno Fincantieri che sono circa 350 persone possa essere realizzata in quella sede con dei progetti che già stiamo costruendo io credo che forse metteremo una fiscia importante per la risoluzione di questo tema. Le devo dire e concluderei che tutto il lavoro che stiamo facendo consentirà grazie anche alla legge di stabilità approvata e ai vantaggi che in questa Regione gli imprenditori hanno nella possibilità di assumere vantaggi fiscali e di formazione. Io credo che su questa strada potremo diventare un modello. Le assunzioni e l'attenzione che hanno le imprese stanno dimostrando che siamo sulla strada giusta.